ciao a tutti sono tamara della libreria ubic di alessandria la nostra è una realtà relativamente giovani siamo nati alla fine di agosto del 2021 quindi di un momento storico particolare stavamo uscendo pronto dalla dal covid e soprattutto ad alessandra il 31 agosto si festeggia il capodanno alessandrino che un po la rinascita di tutte le attività commerciali visto che considerando che alessandra non è una città turistica quindi siamo siamo nati sotto una data molto particolare una rinascita sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale siamo anche in una zona molto strategica c'era prima di noi una libreria storica ma da tanti anni non c'era più e quindi quando abbiamo aperto c'è stata una benevolenza da parte delle persone alessandrine insomma ci hanno accolto molto bene la nostra libreria sin da subito si è differenziata per per gli eventi ormai ci considerano proprio la libreria degli eventi ed era un qualcosa che mancava nella città non è mai stata una città fortemente culturale quindi c'era proprio questa voglia di uscire di creare un qualcosa di creare proprio qualcosa a livello culturale legata al mondo del libro e questo ci ha permesso anche di poter creare veramente delle sinergie con diversi partner del territorio sia a livello istituzionale che parte privati come associazioni addirittura anche altre attività di tipo commerciale c'è stata veramente una risposta positivissima sia da parte della città e da parte dei nostri lettori per la ubic per noi è un po una una mamma non apprensiva nel senso che ci permette ogni volta che abbiamo qualche problematica interviene in maniera semplice le rapide abbiamo avuto problemi a livello di informatico piuttosto che a livello di magazzino e c'è stata veramente in brevissimo tempo una risposta celere e professionale adesso collaboriamo tantissimo anche con l'ufficio 20 quindi la ubic è una mamma non apprensiva nel senso che permette ai libri di essere veramente liberi di poter gestire la nostra attività come meglio riteniamo utile e soprattutto è un modo per poter rispondere alle esigenze del territorio ogni realtà alla propria alle proprie esigenze e questo punto questa libertà ci permette di poter dare un servizio migliore